Fine settimana intenso per le squadre licatessi sia nel calcio che nel basket. Il Licata, dopo aver osservato il turno di riposo la scorsa settimana a causa disparità del numero delle formazioni partecipanti al torneo di promozione, domani torna in campo in trasferta in casa del Ravanusa nella riproposizione di un derby che manca ormai da diversi anni. Per la sfida in programma allo stadio Saraceno, mister Mimmo Bellomo ritrova l'attaccante Fabio Vennero, che ha finito di scontare i due turni di squalifica e torna a guidare l'attacco. Giallo-Blu che arrivano a questo match galvanizzati dalla bella affermazione dei 15 giorni fa al Dino Liotta contro il Canicattì. Impegno casalingo oggi pomeriggio con inizio alle ore 15 per i giovanissimi della Santa Sofia Licata impegnati nel campionato regionale. I ragazzi di mister Ratonino Pinto sono inseriti nel raggruppamento E e dopo il pareggio esterno della scorsa settimana in casa dell'Airona Emodica cercano la prima vittoria stagionale al cospetto del game Ragusa. Domani sarà poi la volta della palla canestro, secondo impegno casalingo consecutivo per la studentesca Licata che completa un miniciclo di tre gare in sette giorni ospitando al Palla Fragapane la forte polisportiva costa di Capodorlando. Ieri è intanto arrivato il primo rinforzo straniero alla corte di coaccettore Castorina. Si tratta dell'americano Wellion Bush, pivot di 30 anni e 196 centimetri che l'anno passato ha disputato un campionato di Serie C in Macedonia. La sua presenza per la gara di domani è però in dubbio. La vivere e viaggiare attende infatti l'arrivo della documentazione necessaria da parte della federazione.